Buongiorno a tutti, finalmente ci siamo! Oggi è il primo settembre e quindi possiamo dare ufficialmente il benvenuto a Silviembre! Allora, voglio iniziare facendo una breve intro su quello che è Silviembre, quello che significa. Allora, essenzialmente questo mese per me è il mese in cui ricomincio, in cui dopo le vacanze ritorno a lavorare, ritorno ad allenarmi, ritorno in cucina, quindi ritorno a prendere in mano la mia vita, le mie abitudini, le mie cose. Per me settembre è sempre stato un mese di nuovi inizi, io ho cambiato tantissime città nella mia vita e solitamente questi traslochi coincidevano con gli anni scolastici, quindi settembre per me è sempre stato il mese della scuola nuova, degli amici nuovi, un mese molto significativo per me perché è sempre stato simbolo di una novità, un cambiamento. E questa cosa mi è rimasta, per me l'anno incomincia a settembre e questo è il motivo per cui settembre è Silviembre. Diciamo che è stato un po' una fortuna il fatto che settembre sia molto simile a Silvia, nonché sia anche il mese del mio compleanno, però l'idea dietro tutto questo è che attraverso i video che vi farò vedere in questo mese, in particolar modo perché sarà proprio il mese dei cambiamenti diciamo e ciò che seguirà dopo, voi possiate trovare della motivazione per magari appunto ritornare ad allenarvi, se anche voi vi siete presi un periodo di pausa durante le vacanze estive come me due mesi, oppure ritornare a cucinare, cosa che appunto io non ho fatto per due mesi, ho lanciato praticamente soltanto insalate e quindi ritrovare un pochino la motivazione per riprendersi in mano la propria vita. E quindi vorrei che questo mese diventasse anche il vostro mese, per me è Silviembre, ma per Giuseppina è Giuseppiniembre, per Francesca è Franceschiembre. Diciamo che, ok, consiglio di agire meglio, però non so se ho reso l'idea, ma vorrei che questi video fossero d'aiuto per aiutarvi, spingervi, motivarvi a rendere questo mese il vostro mese. Magari state guardando questo video a dicembre, gennaio, febbraio, non importa. L'idea è che in qualunque momento dell'anno voi vi troviate, guardando i miei video magari riusciate a trovare un pochino di motivazione per fare un cambiamento della vostra vita. Quindi, detto in poche parole, quello che è a Silviembre, adesso vorrei condividere con voi un pochino i miei updates, ciò che effettivamente sta cambiando o che è cambiato da luglio, quando ci siamo lasciati. Allora, incominciamo con l'argomento principale che è allenamenti. Ho deciso di non allenarmi più con Sara, Sara è stata la mia personal trainer del periodo da settembre dell'anno scorso a luglio di quest'anno, però ho deciso che al ritorno delle mie vacanze non avrei più continuato. Il motivo essenzialmente è che sentivo il bisogno di ritrovare me stessa nei miei allenamenti e nel mio spazio. Ci tengo a specificare che io sono in grado di fare questo e compiere questa decisione per me stessa, proprio grazie alle mie conoscenze e alle mie esperienze. Però la figura del personal trainer rimane molto importante e ve la consiglio. Nel momento in cui non avete queste conoscenze o tanta esperienza. Sono due o tre settimane che sono tornata ad allenarmi e penso che sia stata la decisione più bella che io potessi fare per me stessa. Mi alleno dipendentemente da ciò che desidero allenare, faccio gli esercizi che mi piacciono, quando voglio di spingere di più lo faccio, se voglio di spingere di meno o non me la sento non lo faccio e sono davvero felice di questa mia decisione. Quest'anno mi ha insegnato molto, il mio corpo desidera un equilibrio tra allenamento in sala pesi che avevo molto diminuito, però a luglio io mi sono osservata e ho notato che l'allenamento in sala pesi mi era mancato quest'anno, proprio a livello di aspetto fisico, come si era modificato il mio corpo. Per me l'allenamento con i pesi è fondamentale per avere le forme e la body shape che desidero io, però in quest'anno ho anche imparato a fare un cardio che funziona molto bene con il mio corpo. Io non rispondo molto bene alla corsa, nonostante mi piaccia abbastanza correre, però su di me il cardio che funziona è quello fatto a circuito, con pesi, corpo libero, eccetera, però fatto più velocemente, diciamo. Quindi sì, sono tornata ad allenarmi in palestra, però non solo. Un'altra novità è che ho deciso di iniziare un corso di ginnastica acrobatica. Lo inizierò ad ottobre perché i corsi iniziano ad ottobre e sono felicissima di questo, ragazzi. Cioè io sogno di fare ginnastica artistica da quando avevo 5 anni, però non era uno sport che mia madre provava e quindi non l'ho fatto. Però purtroppo man mano che si cresce, anche solo partecipare a una classe di ginnastica artistica diventa molto complicato. Invece a Milano ho trovato una classe di ginnastica acrobatica, che più o meno è la stessa cosa, per adulti. Quindi vedremo, farò delle classi di prova a settembre, e poi, se mi piace, comincerò ad ottobre. E io spero davvero incrociare le dita perché sono stra-eccitata. Da quando l'ho scoperto, sono il che bramo l'inizio delle lezioni, però vedevo l'ora che divassa ottobre ed era tipo marzo. Poi continuerò idrospinning, probabilmente con meno frequenza, perché ho notato che le mie gambe hanno bisogno di molto tempo per recuperare e non voglio assolutamente infiammarle perché è una cosa che mi succede ogni anno. Mi alleno tanto d'inverno, arrivo a giugno che sono gonfissima, gambe infiammatissime, due mesi di scarico, dove praticamente soltanto nuoto e cammino, non faccio niente, e arrivo a settembre che la gamba si è sfiammata e si è asciugata. Non mi piace questa cosa, non mi piace aspettare la fine dell'estate per dire oh, ora mi vedo bene e poi dopo tre mesi dire no, ora non più. E quindi anche grazie al fatto che incomincio ad allenarmi da sola, starò molto attenta a anche questi piccoli dettagli. Mi prenderò molto più cura di me stessa. Ah, mi si è dormitata una gamba. Tutta questa papardella di roba per gli allenamenti. Un'altra novità che parte proprio a settembre sono i viaggi. Viaggi con i miei followers. Il mio primo viaggio sarà a breve, il 7 e l'8, proprio questo weekend, dove andremo in Trentino per due giorni di sport all'avventura essenzialmente. Si farà kayak e rafting. Non ho mai fatto rafting, non c'ho paura. E passeremo due giorni insieme, la cena insieme, la notte in hotel, probabilmente dormirò anche con voi, non lo so. E non lo so, io sono strafelice. Spero davvero che questa cosa vi piaccia. E credetemi che ho in programma un bel viaggio dopo di questo, che è un po' un test per vedere se la cosa funziona. E dopo di questo, a dicembre, c'è qualcosa di veramente, veramente figo. Siete ancora in tempo per iscrivervi per questo weekend? Basta scrivere una mail chiedendo informazioni alla mail che vi metto qua nell'infobox. Giuro che ve lo metto. Inoltre, quest'anno è davvero l'anno dei viaggi. Ho tanti viaggi di lavoro, già programmati, e uno personale. Il viaggio di lavoro non ve lo dico, perché sarà una sorpresa, anche perché devo ancora attendere conferma in realtà, quindi non vorrei dirla. Mentre quello personale è a Capodanno. Vado nelle Filippine. Questa ve lo devo raccontare. Mi è successa una cosa molto strana. Praticamente, un mio amico delle scuole superiori, che non sento da esattamente sette anni, ha scritto nel gruppo che è rimasto su Facebook, dicendo Ciao ragazzi, io il 30 dicembre mi sposo, vi va a rivenire il mio matrimonio nelle Filippine, a Manila? Io l'ho letto e ho detto Sì, io ci voglio venire. Quindi ho risentito una mia amica, che non vedo da sette anni, però in questo periodo ci siamo continuate a sentire, e abbiamo prenotato. Mi farò dal 27 dicembre al 12 gennaio, dove il 30 c'è il matrimonio, poi c'è Capodanno, poi staremo cinque giorni con altri amici sempre della scuola, e poi una settimana io e la mia amica a girare le Filippine, ma non abbiamo assolutamente idea di cosa fare, devo andare, non lo so ragazzi, mi sono buttata, e questo per me è stato qualcosa di assurdo, cioè se ci penso razionalmente dico, però sono stragasata e strafelice di farlo, anche perché penso che sia una cosa che mai mi capiterà nella vita, di andare a un matrimonio cinese, perché ragazza è cinese, nelle Filippine, e non vedo l'ora. Ovviamente vi porterò con me, non credete che soltanto perché ho un viaggio di piacere io lasci le fotocamere a casa, anzi, non vedo l'ora, e andare nelle Filippine ragazzi, andiamo nelle Filippine! Avrei anche altre cose da dirvi, ma forse le tengo per un prossimo video, però ragazzi, è Silvie Embre, io spero in questo video di essere riuscita a darvi un pochino di motivazione, voglia di fare, voglia di fare qualcosa di diverso, cambiare, non lo so sinceramente se sono riuscita in questo intento, io vi ringrazio, vi saluto, aspettatevi un prossimo video molto precisino, ma non dico nient'altro, buon vostro mese a tutti, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!